Sia durante l'estate che in inverno i pericoli lungo la strada provinciale 190 che collega il comune di Fontanarosa a quello di Mirabella sono gli stessi. Lo smottamento in un punto della provinciale è lì da anni ormai, ma tra qualche mese dovrebbe essere tutto ripulito. La strada è diventata quasi a senso unico con gli alberi che stanno per invadere parte della carreggiata. Diversi gli incidenti, soprattutto quando la strada è resa viscida dalle piogge, si riempie di fango. Ma a quanto pare la soluzione è stata trovata ed è stato risolto il contenzioso tra la provincia e il proprietario del terreno che si è concluso a favore di quest'ultimo. Il muretto non è ceduto a causa delle acque provenienti dal fondo privato. L'intervento sulla provinciale 190 rientra tra quelli messi in programma dalla provincia e che dovrebbero già partire. È stato concordato durante un incontro tra il presidente della provincia Gambacorta, il sindaco di Mirabella Capone, tecnici ed ingegneri. Si partirà dalla riapertura della strada 303 che si congiunge alla statale 90. Il secondo intervento riguarderà il completamento dei 300 metri della provinciale Piano Pantano Passo. Si continuerà con la 190. Il quarto intervento avverrà lungo la 262, la strada che collega Sant'Angelo all'Esca a Mirabella, dove c'è una voragine profonda all'altezza del macello comunale. Il quarto intervento avverrà lungo la 262, la strada che collega Sant'Angelo all'Esca a Mirabella, dove c'è una voragine profonda all'Esca a Mirabella, dove c'è una voragine profonda all'Esca a Mirabella, dove c'è una voragine profonda all'Esca a Mirabella. Grazie Grazie Grazie